Sì, è vero, al primo tempo comunque spingevano molto, la partita eravamo un po' più chiusi noi, un po' più compatti e non c'era tanto spazio per giocare. Al secondo tempo con un po' più di spazi abbiamo preso in mano la partita e comunque abbiamo fatto una buona gara. Nel secondo tempo avete avuto grandi spazi per colpire per la terza volta e segnare il terzo gol. E sei stato anche tu protagonista di un'azione, ti sei involato verso Kordas e quel tiro destinato all'angolino Kordas ci ha messo il piede. Sì, peccato che ci sia arrivato stanchissimo perché ho votato tutto, potevo arrivarci meglio però comunque ripeto la squadra ha fatto una gran partita, qua non è facile venire a vincere a Kordas. L'importanza del gruppo, mi spiego, ha sofferto tanto Monachello in panchina, chiamato in causa, prestazione ottima e gol, ha sofferto tanto all'inizio Scognamiglio, adesso sta giocando sempre, è arrivato il tuo momento, insomma la panchina è più che positiva quella del Pescara. Sì, come ho ripetuto già in passato, comunque chi sta in panchina entra, risponde sempre bene, quindi comunque non è facile entrare dalla panchina a partita in corso, magari chi non gioca da tanto, però comunque siamo una squadra, come hai detto tu, un buon gruppo perché chi risponde dalla panchina entra sempre bene e non svogliato, quindi questo conta tanto. Però Luca Crecco, è innegabile che in questa stagione si aspettava di poter giocare di più, di avere qualche possibilità in più per scendere in campo titolare dal primo minuto? No, è vero, mi aspettavo anch'io di giocare di più, però comunque il calcio è così, c'è un mister che fa le scelte e purtroppo non si può fare altrimenti. Hai mai pensato a gennaio di andare via? No, non l'ho pensato perché comunque ho fatto un progetto qui a Pescara, sto bene qui, so che c'è stima da parte del mister e della società, quindi sapevo che il mio momento sarebbe arrivato e spero di sfruttarlo al massimo. Ti chiedo un'ultima cosa Luca, alla gara di Cosenza, quando poi anche se è stato decisivo, è giocato da esterno basso a sinistra, a Perugia da esterno alto nel tridente, oggi in quello che dovrebbe essere il tuo ruolo di mezzala, diciamo che se dovessi scegliere questo è il tuo ruolo? Sì, questo è il mio ruolo perché sono cresciuto da mezzala, quindi questo è il mio ruolo, poi comunque mi posso adattare come ho fatto altre partite in altri ruoli, però comunque nasco da mezzala. Voglio dire un'ultima battuta Luca, la Calabria ti porta bene, la Calabria avevi segnato un gol a Cosenza, questa sera si è andato vicino a segnare un gol con il Crotone, ora però c'è la gara con il Padova, una gara tutt'altro che semplice? No, sicuramente non è una gara semplice perché loro stanno lottando per restare nel campionato di Serie B, quindi non sarà facile, come comunque d'altronde non è nessuna partita facile in Serie B, quindi faremo del tutto per portare a Cosenza i tre punti. Ancora rabbia quella partita giocata all'andata all'Euganeo, fino al novantesimo il Pescara conduceva per 2 a 0, poi 5 minuti di blackout e due gol del Padova. È vero, sì, fa male perché prendere i gol in tre minuti non è mai piacevole, abbiamo abbassato un po' la concentrazione e abbiamo peccato, purtroppo abbiamo preso quei due gol, però ci rifaremo, speriamo, sabato.